Zavala, ho qui con me la nostra fonte di salvezza. Raggiunghiate la nave, ora! Tieniti forte! Dai ragazzone, fa qualcosa! Ok, ci siamo. Adesso va a distruggere. Facci sapere quando gli scudi sono disattivati e colpiremo la nave con tutto ciò che abbiamo. Noi, noi, noi. L'ologramma ci aiuterà, diamo un'occhiata Dunque, il generatore di scudi dovrebbe trovarsi alla base della nave Il generatore di scudi dovrebbe trovarsi alla base della nave Il generatore di scudi dovrebbe trovarsi alla base della nave Il generatore di scudi dovrebbe trovarsi alla base della nave Il generatore di scudi dovrebbe trovarsi alla base della nave Il generatore di scudi dovrebbe trovarsi alla base della nave Il generatore di scudi dovrebbe trovarsi alla base della nave Il generatore di scudi dovrebbe trovarsi alla base della nave Il generatore di scudi dovrebbe trovarsi alla base della nave Il generatore di scudi dovrebbe trovarsi alla base della nave Il generatore di scudi dovrebbe trovarsi alla base della nave Il generatore di scudi dovrebbe trovarsi alla base della nave Grazie a tutti 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 Grazie a tutti